Io ho assoluto riservatezza, quindi non ho due soldi che devo alzare e poi non dare le linee della storia. Però non ho ieri sera questi soldi, per cui io sono andato in banca qua, e non me ne vanno, cioè posso alzare tutti perché se non mi fanno la separazione per andare al biciclaggio. Allora, per evitare la segnalazione, io ho pensato 4.500 euro che stanno a dire, e altri 8.500, diversi anni domani. Poi se tu fai la stessa cosa adesso ti andrò da 4.500 oggi e 4.500 domani, sono 9.900, 18.000. Mi sa che bisognerà fare poi la settimana prossima un altro paio di versamenti. Io te li lascio a casa, nel tempo che il bus è già divisi nel 4.500 e la settimana non si deve alzare. Dovrebbero essere, secondo me, adesso mi devo fare i conti, perché mi sa che compresi 90 o 31 euro circa da alzare. Allora...